Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, Soccorso Pubblico e la Questura di Avellino, nella tarda serata di ieri, a seguito di una segnalazione, sono intervenuti in Via Piave, presso l'abitazione di una cittadina di nazionalità ucraina di 46 anni, che, incurante delle limitazioni imposte alla normativa in materia di misure per il contrasto, il contenimento e la diffusione del virus Covid-19, aveva organizzato un party con altre 7 persone, in media di 30 anni, di cui 2 di nazionalità italiana e altre 5 con cittadine ucraine. I poliziotti, dopo aver appurato che i presenti non erano né conviventi né appartenenti al nucleo familiare, hanno proceduto a stanzionare tutto il gruppo per il mancato rispetto delle misure da contenimento vigenti. Inoltre, un giovane è stato stanzionato anche per uso di sostanza stupefacente, in quanto trovato in possesso di marijuana.